Il calzaturiero italiano resta una punta di diamante nel panorama critico industriale italiano. Rispetto al bienio 2010-2011, il trend di crescita è calato, ma è stato almeno in parte compensato dall'aumento del valore delle esportazioni con un più 2,5%. Veneto, Toscana, Marche e Lombardia, in ordine di fatturato esterno, coprono ben l'80% delle vendite oltre confine. È un settore che ancora riesce a superare questa crisi, perlomeno a mettere un freno grazie all'export. Noi sportiamo l'85% della produzione, soprattutto in mercati come la Russia, come l'Estremo Oriente e l'Emirati Arabi. Per quanto concerne il numero di imprese attive, la Puglia è la regione con il peggior saldo in termini percentuali, con un meno 2,5%. La Puglia è una di quelle regioni che dimostra il nostro concetto, che se la filiera poi si inaridisce, si prosciuga la fonte e poi chiude un distretto. Proprio per questo il presidente di Asso Calzaturifici ha chiesto alla regione Puglia di valutare un progetto di filiera che possa ridare fiato alle aziende del settore. Il distretto della Puglia anni fa era molto incentrato su una calzatura sportiva che oggi non è più competitiva nei confronti di paesi come la Cina o il Vietnam o la Cambogia. Molte aziende si sono riorientate su prodotti di sicurezza, prodotti più moda, altre non ce la fanno ancora. Quindi abbiamo pensato anche su questo di sollecitare alla regione Puglia un progetto da fare insieme in cui anche la nostra associazione investe ma occorre che anche poi la regione ci aiuti in qualche modo con delle risorse.